Domenica 28 gennaio alle 18, il Palace Portestra ospiterà il quart'ultimo turno della prima fase del campionato di Serie B, dove l'AMBC Servizi affronterà il Trecolli-Serravalle-Scrivia. La compagine piemontese, guidata in panchina da Coach Gatti, è reduce dall'affermazione Casalinga contro Castalfiorentino e si trova solamente due lunghezze dietro la SBA in classifica. Il Trecolli, rispetto alla gara di andata, ha inserito due giocatori nel roster, Ragazzini e Perez della Blanca, che oltre a dare maggiori rotazioni a Coach Gatti, hanno dato più fisicità alla squadra. L'AMBC Servizi dovrà ritrovare la determinazione che ha contraddistinto la gara interna con la Spezia e che a tratti si è vista anche a San Mignato, tanto che gli Amaranto hanno messo in difficoltà la terza della classifica generale in campo avverso. L'ASBA avrà bisogno anche dell'apporto del proprio pubblico, che in questa stagione è stato molto vicino alla squadra, rappresentando in più di un'occasione un vero e proprio sesto uomo a fianco del quintetto di Coach Evangelisti. L'appuntamento per tutti i sostenitori Amaranto è dunque per domenica alle 18, quando verrà alzata la palla 2 iniziale tra AMBC Servizi Arezzo e Trecolli-Serravalle-Scrivia.